La Macdub del Gruppo del Prete vi dà il benvenuto nel centro dove si incontra l'Italia che lavora e che produce. La nostra azienda nasce nel 1967 dal fondatore Alessandro del Prete. Da oltre 50 anni la Macdub è venditrice e distributore di prodotti e attrezzature per la sanificazione e igienizzazioni industriali e professionali a norma HACCP. La Macdub è un punto di riferimento sia nel proprio territorio che in ambito nazionale. La nostra vasta gamma di sanificanti e igienizzanti si collocano in qualsiasi settore, dalle industrie alimentari, metalmeccaniche, ristorazione, hotelleria, automotive, casalinghi ed altre ancora. La nostra è un'azienda dinamica dove con un'adeguata distribuzione di ruoli e di buon lavoro di squadra. Siamo alla continua ricerca di prodotti innovativi e validi, in modo da soddisfare le esigenze del cliente e delle aziende. La nostra azienda è come l'acqua, prende forma e si trasforma a seconda di quelle che sono le necessità di mercato e della collettività. Abbiamo sempre considerato la nostra attività una passione da coltivare e da difendere, portando sempre la nostra azienda a guardare al di là dei propri orizzonti, crescendo e specializzandosi in campi sempre nuovi e diversificati. Per questo, da oltre 50 anni, siamo quello che gli altri vi daranno, solo in un domani. La MacDub del Gruppo del Prete vi saluta e vi attende nel centro, dove si incontra l'Italia che lavora e che produce. Sia nel proprio territorio che in ambito nazionale. La nostra vasta gamma di sanificanti e igienizzanti si collocano in qualsiasi settore, dalle industrie alimentari, metalmeccaniche, ristorazione, hotelleria, automotive, casalinghi ed altre ancora. La nostra è un'azienda dinamica, dove con un'adeguata distribuzione di ruoli e di buon lavoro di squadra, siamo alla continua ricerca di prodotti innovativi e validi, in modo da soddisfare le esigenze del cliente e delle aziende. La nostra azienda è come l'acqua, prende forma e si trasforma a seconda di quelle che sono le necessità di mercato e della collettività. Abbiamo sempre considerato la nostra attività una passione da coltivare e da difendere, portando sempre la nostra azienda a guardare al di là dei propri orizzonti, crescendo e specializzandosi in campi sempre nuovi e diversificati. Per questo, da oltre 50 anni, siamo quello che gli altri vi daranno solo in un domani. La Macdub del Gruppo del Prete vi saluta e vi attende nel centro, dove si incontra l'Italia che lavora e che produce.